Albano spezza il cuore a Romina, mentre l'ha lecciso con la Pascale e… Albano ha dichiarato recentemente di non essere molto in salute. I segnali che il corpo mi ha mandato sono molto, molto seri. Devo fermarmi, capire a che punto sto, riassettare la macchina. Durerà un anno, cinque mesi, non lo so, ma quando la mia macchina sarà perfetta, come la conosco io, vai tranquillo, perché senza cantare sto male, sarebbe una malattia, lo ha detto al Matrix Chiambretti. Albano confessa di stare male. Inoltre, ha recentemente messo in chiaro che non ha nessuna intenzione di risposare la sua ex moglie, Romina Power. Per ora, Loredana lecciso si sta prendendo tante piccole rivincite, a partire dalla riconquista della sua vita. . Ha recentemente pubblicato sui social delle foto che la ritraggono insieme alla compagna di Silvio Berlusconi, ovvero Francesca Pascale. . Nella didascalia, si può leggere la frase amiche sempre. . Loredana lecciso cerca di riprendere le redini della sua vita. . In molti fan si sono schierati dalla parte dellalleciso. . . . . . . . .